Si chiama Shannon Lane, una giovane artista inglese che ha compiuto una scelta drastica della sua vita, quale vi starete chiedendo, quella di trasferirsi, di andare a vivere in una barca, per colpa del fatto che il costo della vita in una casa normale, tradizionale, è troppo elevata. La donna ha compiuto una scelta importante, una scelta che va a dividersi dal punto di vista personale, da nido domestico sia dalla casa. L'affetto infatti è eccessivamente troppo alto. In Inghilterra, di conseguenza, ha deciso di vivere in barca per risparmiare i soldi. Non c'è più l'ansia per dei posti nuovi, però c'è anche una cosa a cui non ha effettivamente mai pensato. Si tratta di una piccola barca, non troppo elevata. La donna ha 29 anni di età, ha comprato una robota a 28.000 euro, ha fatto arti e bagagli, col cagnone di Gilbert non è molto grande, è molto piccola, però non ha più ansia neanche più la depressione che prima aveva quando viveva in una casa e riesce a risparmiare anche una bella quantità di denaro. Le bollette non deve pagare, non ci sono luce, gas, telefono, corrente elettrica, né altro. Quindi, diciamo che è soltanto uno svantaggio il fatto che non può, ha difficoltà a svuotare la tua eletta. Quindi, per fare il bisogno non sa dove metterli. Smaltire i rifiuti è un'azione impossibile, o meglio molto, molto complicata, però non è in questione. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video. Io Giuliani di YouTube, iscrivetevi e commentatevi. Ciao a tutti. Grazie.